Purtroppo il governo Renzi sta andando in direzione esattamente opposta, depenalizzando una notevole serie di reati. Io ci andrei giù con mano pesantissima. Ad esempio in Italia non esiste più l'ergastolo, esiste solo sulla carta ma la galera vita non c'è più per nessuno. Invece certi soggetti non dovrebbero più vedere la luce del sole per quanto mi riguarda. E sul tema sicurezza, legalità, non in questo caso legato alla mafia e alla criminalità, un'altra proposta di legge che abbiamo presentato, riprende una sperimentazione già in vigore in alcuni paesi europei che riguarda la castrazione chimica. Visto che ormai gli episodi di violenza sessuale in Italia sono purtroppo all'ordine del giorno e quindi in via sperimentale già in fase attuativa in diversi paesi d'Europa e del mondo, per quanto mi riguarda uno che compie violenza sessuale una volta deve essere messo in condizioni di non poterla più fisicamente compiere la seconda volta.